Si terrà venerdì presso il polo museale civico di Cerignola nel Foggiano un nuovo appuntamento con la rassegna Te con l'autore. Questa volta l'evento è stato organizzato dall'associazione Iapugis di Cerignola e verrà presentato il romanzo Stella Bianca realizzato da Antonella Belviso e Paolo Maolucci. L'evento si terrà a partire dalle 19.30. Il romanzo manda importanti riconoscimenti in occasione di alcuni concorsi nazionali ed internazionali. Scritto a qua contro mani è un romanzo delicato e commovente che si dipana sullo sfondo di una Puglia assolata e caratteristica tra feste, paesaggi agricoli e piccoli borghi da scoprire.